ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo video io sono nelle kid e questo qui è il mio primo video che faccio su youtube ecco chi è un iscritto di questo tipo che ti sto dicendo mi avrete già visto i peggio gamer mi avete visto già una volta nei peggio gamer però non avevo già un canale fatto adesso l'ho preparato questo qui il mio primo video è un video di presentazione naturalmente allora mi presento io mi chiamo emanuele userò il nickname che sarebbe delle kid ragazzi questo video se questo video vi è piaciuto lo finire qui naturalmente vi ho detto che è un video presentazione ah mi dimenticavo vi dirò gli orari per il video allora usciranno il due volte alla settimana casamai se usciranno di più e perché sono speciali oppure avete capito allora usciranno il lunedì alle 5 e il venerdì alle 4 grazie a questo video vi è piaciuto lasciate like iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video bella ragazzi